Quando ho visto Ray per la prima volta, è stato desiderio a prima vista. Non amore, desiderio. Ha varcato la porta ed era enorme. Sembrava il David di Michelangelo. Era bello. Sembrava molto rispettoso e gentile. Ho pensato, ho trovato il padre per i miei due figli. Sembravo piacergli molto, l'avevo colpito.